Sono stati sequestrati 29 chili di marijuana ed è stato arrestato a Niscemi un imprenditore agricolo di 63 anni per traffico, detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una vasta operazione dei poliziotti di Niscemi che hanno arrestato Salvatore Pepi di 63 anni, imprenditore gravato già da precedenti penali poiché è stato colto in fragranza di reato di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della squadra di polizia giuristiaria del commissariato hanno sorpreso Pepi all'interno della sua abitazione, un'abitazione rurale ubicata in contrada a Vituso, all'interno della quale era custodito un grosso quantitativo di sostanza stupefacente messa ad essiccare. Al pieno terra del fabbricato invece sono stati trovati numerosi arbusti di marijuana completi di foglie in fiorescenze per un peso complessivo di 29 grammi.